da disney video un mondo magico che sarà tuo da custodire per sempre uno dei grandi classici della disney esce ora per la prima volta in videocassetta unisciti alle scorribande di alcuni tra i più folli e imprevedibili personaggi della banda disney senza certo dubbiamente ecco doger tutto bene ragazzi fai ghi tito ti condanno a fuente georgette sogna la larga piccolo mostriciato ovvio che passa da me amico e oliver non capito sappiamoci noi sono oliver and company fantastica un divertentissimo classico disney un'avventura mozzafiato si si vola sino a central park lui è un piccolo micetto orfano proiettato di colpo dal mondo della strada a un mega superattico dei quartieri alpi non è un amore hai per caso una vaga idea di chi sia quello ciotolo in cui stai mangiando è roba mia ma quando il piccolo oliver finisce nei guai non ripeto oliver forza gente muoviamoci muoviamoci toccherà dogeri ai suoi amici salvarlo all'ultimo momento per il rotto della cucchia vivi con la tua famiglia questa incredibile avventura e aspettano un mare di risate e tante canzoni da cantare insieme alla raffinata georgette al tenero al e allo scanzonato unisciti a questa banda di scatenati uno con loro aggiungi un altro grande classico alla tua collezione oliver and company presto in videocassetta ehi amigos se questa è una torturata incatenatemi a loro benvenuti in un mondo in cui i giocattoli prendono vita ok ragazzi via libera si comincia uddy il veterano spara oh mi hai colpito maz la recluta ha il laser è una semplice lampadina che ne prende vita del laser due eroi disposti a tutto meno che a convivere non mi piacciono i confronti ma ora hanno varcato la soglia e sono piombati nel mondo reale dove la posta in gioco è la sopravvivenza ho tolto la sicura al laser sei un giocattolo usa le mosse di karate fermati ma danno i numeri forza di qua walt disney home video vi invita sulle ali dell'avventura che vi porterà verso l'infinito e oltre tutto a punto ho il storico paz vuol venire qua su a darmi una mano ah ah molto spiritoso è una cosa seria per lui per loro per lei per tutti le storie più avvincenti i film del cuore i cartoni mitici e spassosissimi cerca il logo family entertainment sulle cassette warner home video e mgm ua home video troverai le videocassette che fanno divertire tutta la famiglia gli scudi family entertainment nintendo 64 artiglia la potenza nintendo 64 provoca nuove emozioni ogni volta che giochi l'esaltazione per una partita ben giocata potrebbe compromettere la tua capacità di giudizio una partita disastrosa ti potrebbe deprimere evita i pulsanti russi non peggianti nintendo 64 può anche farti diventare euforico non fare acquisti di cui potresti facilmente pentirti aspetta prima di tornare alle normali occupazioni una guardia del corpo potrebbe essere utile allo scopo sconvolto il mondo dei videogiochi ragazzi oggi la console Coleco Vision costa solo 148 mila lire l'unico videogioco che è anche un computer un affare intergalattico per avventure come Rocky ragazzi un'occasione così nemmeno i grandi se la farebbero scappare ok? con Jig Tiger catturi l'eroe del momento Hulk capitano uncino contro Peter Pan Flash l'eroe più veloce la famiglia Adam mostruosamente divertente porta in tasca un'intera sala giochi con Jig Tiger tascabili da G a un passo dalla Vie Lumière c'è il magico mondo di Disneyland Parigi un carnevale di colori e musica dove le favole e i film prendono vita ogni giorno dell'anno e incredibili attrazioni tolgono il fiato il sogno continua negli spettacolari alberghi dove potrete rimanere nel cuore della magia c'è così tanto da fare così tanto da vedere Disneyland Parigi il regno dove i desideri diventano realtà è un vero Walt Disney solo se ha la garanzia di autenticità e qualità dell'ologramma argentato ed il marchio Univideo presenti sulla confezione non accettate i falsi esigete sempre e solo videocassette originali Walt Disney Home Video un vero Walt Disney Home Video un vero Walt Disney Home Video Walt Disney Home Video Walt Disney Home Video Walt Disney Home Video Grazie a tutti.